Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. La statale 67 Tosco-Romagnola per un incidente è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Pontassieve al chilometro 98 sulla A1 per traffico intenso o rallentamenti in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Per lavori fino al 28 febbraio è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sulla Fipilì fino al 28 febbraio per lavori al viadotto Stagno chiusura della carreggiata all'altezza del chilometro 76 nel ramo di Livorno. La viabilità cittadina a Firenze domani via di Peretola chiusa al transito tra piazza Garibaldi e via Pratese. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!